E' da poco uscito il nuovo libro, il nuovo volume, la nuova rivista Testimonianze, rivista fondata da Ernesto Balducci, si intitola Sul crinale della storia, a confronto con Ernesto Balducci venti anni dopo. E' una delle celebrazioni delle iniziative nell'ambito del ventennale dalla scomparsa di padre Balducci all'interno dell'anno balducciano ed è un modo per riflettere a partire dalla memoria sull'attualità, recuperando anche il senso della memoria come valore di per sé fondante la convivenza civile. Ne parliamo con Severino Saccardi, direttore di Testimonianze. Allora innanzitutto cosa troviamo in questo volume? In questo volume intanto ritroviamo scritti di Balducci. C'è una sezione archivio in cui viene ripubblicato un suo storico testo su Don Milani, sul numero 100 di Testimonianze che è esaurito da decenni, uno dei primi scritti su Don Milani. La sua relazione al primo convegno di Testimonianze, se vuoi la pace prepara la pace, il pacifismo ha una svolta. E poi troviamo soprattutto riflessioni sul pensiero di Balducci e testimonianze, percorsi di realtà, persone, gruppi, che oggi cercano di intendere il senso profondo e l'attualità di una lezione e in qualche modo raccoglierne il testimone, per così dire. C'è per esempio una testimonianza, che a me sembra emblematica, di Sergio Pinciani del Movimento Solidarità in Movimento, che ricorda l'intitolazione di un piccolo campo sportivo, di un piccolo campo da gioco, a padre Ernesto Balducci nella periferia desolata di Lima. Lì, tra questi poveri ragazzi di Lima, che vivono nella miseria, ma a cui non manca magari l'allegria, come non mancava ai minatori di Santa Fiora, sulla miata dove era nato nel 1922 Ernesto Balducci, lì in qualche modo l'uomo planetario, che è l'espressione simbolo di Ernesto Balducci, titolo di un suo famoso libro, lì l'uomo planetario vive, nel locale e nel globale. È un'immagine che parla più di tante riflessioni. Ecco, Testimonianze ha pubblicato questo volume per fare memoria, perché è giusto anche ricordare una storia in un tempo che ha molta ritorica della memoria, ma ha poca conoscenza del suo stesso passato prossimo, ma soprattutto perché in un tempo profondamente mutato un messaggio come quello di Balducci ci raggiunge ancora e va vissuto in spirito di libertà. E allora, appunto su questo, qual è l'attualità del messaggio di padre Balducci? L'attualità del messaggio di padre Balducci, di cui avremo modo tra l'altro di parlare, di riparlare anche il prossimo 22 maggio alla biblioteca delle Oblate, nel pomeriggio, quando presenteremo questo volume, sta fondamentalmente in una espressione che lui stesso usava, riferendosi e riprendendola dal grande pensiero del cattolicesimo democratico francese, penso a Emmanuel Monier, e era quella dell'ottimismo tragico, che sembra una specie di ossimoro, una specie di contraddizione in termini, ma che in realtà esprime proprio una posizione e una dimensione che oggi, in tempi di crisi, in tempi di crisi vorrei dire umana, antropologica, prima ancora che umana e politica, sarebbe assai importante coltivare. Cioè a dire vedere le contraddizioni, vedere i problemi, vedere anche la disperazione che spesso c'è in giro, il disorientamento, ma non perdere la fiducia, coltivare la speranza. Ecco, essere coltivatori, per così dire, di speranza nella polvere della storia, politicamente e culturalmente, questo è il messaggio che Ernesto Balducci ci ha lasciato e che in una pluralità di esperienze va fatto vivere. Questo è il modo migliore, io credo, di ricordarlo e di rendergli omaggio.